Un premio per l'impegno profuso per aiutare gli altri, lo spirito umanitario, questo è il premio di Martin, viene consegnato in anticipo perché il suo impegno è in Brasile. Io sono venuto qui per due motivi. Primo quando mi hanno detto che volevano darmi questo riconoscimento, mi è piaciuto non tanto per la mia persona, quanto è un'altra manifestazione che la chiesa è sempre presente quando c'è bisogno. Secondo perché ho conosciuto giorni fa vari parenti che sono venuti dall'Australia, figli di mio zio, che non conoscevo né io né la mia famiglia. L'origine abruzzese di Capestrano? Ah sì, di Capestrano sì, però ho visitato buon parte dell'Abruzzo perché papà come funzionario pubblico, legato un po' al denaro, alle tasse eccetera, era trasferito ogni sei mesi. Solo la scuola elementare l'ho fatto in più di dieci paesi abruzzesi. L'Abruzzo si preoccupa di trovare tutti i suoi rappresentanti in giro per il mondo, in questo caso un rappresentante che va a approfondere un aiuto umanitario nei paesi dove ci sono davvero tante difficoltà. In questo caso si parla del Brasile, ecco questo è un premio particolare. Questo nostro rappresentante, Don Bruno Giuliani, ha dedicato la sua vita a un'attività di pastorale sanitaria. Ha quindi guardato le difficoltà della gente, ha costruito le condizioni perché ci fossero gli elementi per curarli e soprattutto ha fatto sentire la sua vicinanza come supporto psicologico alle tante persone della nostra regione e della nostra Italia che in quelle terre vivono momenti difficili.